Ciao a tutte e ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, ennesimo video che registro con l'iPhone devo dire che il Get Ready With Me che vi ho pubblicato non mi è dispiaciuto e quindi insomma io continuo a registrare col telefono finché mi è possibile allora oggi vi registro, anzi ogni tanto però sposto lo sguardo come vi ho detto nel precedente video proprio perché cerco di capire se sono messa bene, se mi sono spostata e così via perché con la videocamera insomma oltre a vedere l'obiettivo ho il bello laterale, lo sportello insomma dove riesco a vedermi ma in ogni caso credo che anche con la videocamera devo spostare lo sguardo, vabbè comunque mi sto perdendo un attimo allora oggi parliamo di shopping, questo è un video haul, è un video haul che ho fatto dopo essere rientrata dalle vacanze è giusto per riprendermi, insomma ogni scusa è buona, dallo shock da rientro quindi parliamo subito, vi faccio vedere dei prodotti che mi hanno sorpresa tantissimo uno non l'ho ancora utilizzato, l'altro invece l'ho utilizzato e mi è piaciuto molto sono due prodotti per capelli super super economici ragazze se sentite casino e rumore c'è Cipria che sta spaccando tutto gioca non solo a un cosa e sbatte di qua e di là comunque allora sono due prodotti super economici come vi dicevo, sono due prodotti splendor tra l'altro io li ho presi dai cinesi e avevano queste offerte, li ho pagati 79 centesimi l'uno allora questo è il balsamo illuminante olio splendente che dona luminosità ai capelli e li rende belli morbidi e setosi che cosa mi piace di questo balsamo? allora dopo averlo applicato e aver tamponato i capelli io avevo già il riccio definito cioè mi ha fatto dei capelli bellissimi, guardate cioè io li trovo veramente splendidi, lucidi, corposi mi è piaciuto veramente tanto buona la profumazione, buono il potere districante costa poco, avrà un incipessimo, non lo so, non l'ho neanche letto sinceramente però mi piace un sacco quindi se magari avete i capelli ricci come me ma credo che questo sia perfetto anche sui capelli lisci dategli una possibilità, insomma provatelo dopodiché ho preso sempre della stessa linea olio splendente ho detto proviamo anche lo shampoo magari mi trovo bene anche con quello ma non l'ho utilizzato ancora è appunto lo shampoo illuminante olio splendente per capelli morbidi e setosi anche per quanto riguarda i prodotti insomma che vi faccio vedere in questo video ve li scrivo giù nell'info box così nel caso in cui non riusciate a leggere bene attraverso la videocamera poi, siccome a giorni devo fare la tinta perché già si vede la ricrescita ho preso questa tinta per capelli colore professionale, copertura perfetta di Fran Prouveau e io prendo la colorazione castano scuro perché è proprio il colore dei miei capelli sperando che non mi bruci ultimamente mi brucia il cuoio capelluto un po' con tutto forse è particolarmente sensibile, non lo so l'ho usata altre volte l'ultima volta che l'ho usata mi ha un po' irritata insomma, quindi spero che questa volta non mi pizzichi questa l'ho presa 4,95€ e l'ho presa da Sirene Blu poi, so che arrivo notevolmente in ritardo però, insomma, ho voluto prenderlo anch'io è un kit che è uscito già da tempo però ho deciso di non acquistarlo poi mi sono trovata da Sephora l'ho visto da vicino fisicamente e ho deciso di prenderlo perché mi sembra molto carino ed è il kit di Huda Beauty il kit che prevede una matita labbra un rossetto liquido matte e un lip gloss allora, si chiama set of... no, allora abbiamo un set of lip pencil un mini liquid lipstick e un mini lip gloss allora, adesso vi faccio vedere com'è come si presenta il set si chiama Contour & Strobe Lip Set e io ho preso la colorazione Trophy White allora, il set si presenta così quindi qui abbiamo il rossetto liquido matte questo è il lip gloss e questa è la matita adesso facciamo degli swatch il colore è appunto Trophy White quindi una mini size molto carina nel classico rossetto liquido di Huda Beauty e vi faccio appunto uno swatch il colore è bellissimo è una sorta di color ciliegia è molto molto bello allora, io spero ragazze di mettere a fuoco che si veda bene è molto molto carina io ne ho altri di questi rossetti e devo dire che la qualità dei rossetti liquidi di Huda Beauty a me piace moltissimo poi c'è anche la matita che è la Lip Contour Trophy Wife nella stessa colorazione quindi ve la swatcho accanto la matita è molto molto morbida vedete? è leggermente più fredda però molto molto bella anche questa tra l'altro molto morbida quindi secondo me si può usare tranquillamente anche come rossetto e poi vado a prendere il Lip Bloss e questo mannaggia e chi vede? vediamo se riesco a leggere da qui la colorazione del Lip Bloss allora è lo Strobe Lips e credo che la colorazione no non lo so ragazze ve lo scrivo giù nell'info box perché su else può essere comunque ve lo scrivo giù in info box vi faccio vedere la colorazione io questo l'ho già provato allora vi dico adesso quello che penso di questo lucido allora da solo secondo me da solo è pazzesco guardate la meraviglia di questo Lip Bloss che è praticamente ha questo effetto strobing bellissimo super cangiante perché è un po' rosa un po' rosso un po' oro un po' verde a tratti è veramente molto molto bello e usato sul rossetto non mi piace perché perde completamente almeno per quanto mi riguarda secondo i miei gusti perde completamente questo effetto cioè da lucentezza al rossetto ogni tanto in base a come vengono colpite dalla luce le labbra ha un effetto leggermente come dire cangiante però perde proprio il suo effetto così bello rispetto a quando appunto viene utilizzato da solo il prezzo di questo set è mi pare 29,90€ io l'ho preso da sephora e l'ho trovata appunto anche online poi che cosa ho preso ho preso due rossetti di Maybelline allora il packaging vabbè dei rossetti Maybelline è sempre quello questi li ho presi da sirene blu e sono in questo momento in offerta a 7,90€ e questi sono i rossetti powder matte ultra matte ho preso il numero 10 nocturnal rose allora aspettate mi metto qui vediamo se riusciamo questo è il problema del telefono che non mi mette bene a fuoco comunque questo è il nocturnal rose che è sorpresa guardate dov'è il rossetto cioè me l'ha aperto in questo momento eh l'ha commessa io l'ho preso da praticamente stamattina questo rossetto bene benissimo allora brava veramente brava fortunatissima vabbè allora mi sono sporcata tutta ve lo faccio vedere l'ho anche rotto colore bellissimo colore veramente splendido una sorta di color marsala e pazienza ormai me lo terrò così perché se glielo porto quella mi dice ma l'hai rotto tu invece avete visto l'ho aperto insieme a voi e il rossetto era già bello che è rotto perché perché fa troppo caldo in quel negozio veramente è caldissimo e quindi i rossetti praticamente si disintegrano comunque mi sono sporcata un po' vi faccio uno swatch colore bellissimo guardate che meraviglia super 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 pigmentato effetto total matte ed è bellissimo questo rossetto quindi questo è il nocturnal rose la colorazione 10 e poi ho preso il numero 15 si chiama smoky taupe e questo è più un rossetto sui toni del malva con all'interno anche un po' di grigio questo rossetto wow ragazzi è bellissimo guardate che colore splendido fatemi sapere anche come si vedono i colori dei rossetti gli swatch mi raccomando oddio oddio cioè ma la meraviglia ragazze è bellissimo a parte poi la qualità di questi rossetti è pazzesca è veramente ottima ma sto colore è strepitoso bellissimo contentissima di averlo preso quindi questo è il numero 15 smoky taupe 7,90 euro mi pare di avervelo detto poi avete visto questi prodotti nelle mie stories su instagram allora ho preso due prodotti della collezione di effect di wicon e ho preso un dress your lips liquid lipstick questo è il packaging e ho preso la colorazione 05 marsala sicuramente questo prodotto lo avete già visto nel get ready with me in ogni caso è quello che ho su in questo momento ed è questo rossettino qui che lì per lì quando l'ho preso sembrava uno smalto invece è un liquid lipstick scusate ho le mani tutte imbrattate di rossetto allora vi faccio vedere ha un odore di vaniglia cacao che è buonissimo questo è l'applicatore e adesso vi faccio uno swatch così magari lo vedete ancora meglio ecco e questo è il colore bellissimo anche questo molto confortevole l'unica cosa è che è tanto tanto liquido quindi comunque conviene contornare le labbra con una matita per evitare che sbavi comunque il risultato sulle labbra è bellissimo ottima ottima durata e ovviamente non resiste al pasto perché insomma si toglie tutto sulla parte centrale delle labbra ma a me poco importa questo l'ho pagato 9,90 euro da Wicon e poi ho preso un Naked Kiss Lip Chubby non una versione matte ma una versione sheer molto brillante e questo è il numero 03 Warm Rose che spero vediate ma credo di sì e vi faccio uno swatch anche di questo e questo mi pare di averlo pagato invece non mi ricordo se 8,90 euro o 7,90 euro eventualmente vado a vedere il prezzo giusto e ve lo faccio passare in sovraimpressione questo è il packaging così un po' tipo vellutato molto molto carino opaco e il matitone si presenta così vedete questo poi si gira non va temperato ovviamente e vi faccio uno swatch è un bellissimo color rosa malva brillante quindi che va a dare un po' di colorazione alle labbra rimane comunque molto leggero e un effetto molto naturale sulle labbra non l'ho ancora utilizzato quindi questo diciamo ve lo sto facendo vedere ma non l'ho ancora testato utilizzato quindi non vi saprei dire rispetto alla durata sulle labbra altro prodotto che ho preso è che avete assolutamente visto in azione in azione lo avete visto applicato durante il get ready with me è questo mascara di lancome il monsieur big che io ho preso nelle profumerie beauty star e che ho preso in offerta 22 euro e 90 perché prezzo pieno mi pare che sia intorno ai 28 29 euro comunque non è un mascara propriamente economico il colore vabbè è lo 01 si chiama big is the new black e devo dire che questo mascara non mi dispiace anche se ci sono appunto delle cosine da dire allora questo qui è il packaging un po' diverso rispetto ai classici packaging dei mascara di lancome vi faccio vedere anche l'applicatore che non è un applicatore poi così piccolo è una via di mezzo allora è quello che ho su in questo momento e allora che dire di questo mascara mi piace mi piace l'effetto è bello volumizzante allunga le ciglia però questo scovolino preleva veramente tantissimo prodotto scusate ragazze mi sta squillando il telefono rispondo e torno subito allora vi stavo dicendo che questo applicatore preleva veramente tantissimo prodotto quindi il prodotto va comunque lo scovolino va un attimino scaricato e va lavorato tantissimo perché almeno sulle mie ciglia con una sola applicazione non concludo niente io almeno ne devo fare tre e devo comunque stare attenta a scaricare bene lo scovolino perché altrimenti è un mascara che tende a fare i grumi si asciuga in fretta quindi va lavorato velocemente occhio per occhio in maniera tale da non fare una passata sul primo occhio poi sull'altro perché nel frattempo si asciuga troppo il primo occhio e poi forma tanti grumi e poi non lo trovo adatto per le ciglia inferiori perché rilascia troppo prodotto e quindi da quell'effetto troppo pastone che non mi piace in generale però l'effetto sulle ciglia trovando la metodologia giusta per applicarlo lo trovo veramente bellissimo e quindi molto contenta di aver fatto anche questo acquisto poi avete visto anche in questo caso nelle stories che ho acquistato il 30ml l'eau de parfum di Thierry Mugler Womanity questo è un profumo che ho acquistato tra virgolette su suggerimento di Selvaggia la mia amica Selvaggia del canale S&S Style & Makeup alla quale mando un grosso bacio che saluto sempre con affetto insomma lei ne ha parlato in maniera veramente molto come dire entusiasta di questo profumo e quindi sono andata alla ricerca tra l'altro è un profumo che è andato fuori produzione quindi ahimè si trova quello che è rimasto in giro e io sono riuscita a trovare soltanto questo 30ml allora già il fatto di avere una boccetta di questo tipo è veramente qualcosa di meraviglioso perché è una boccetta fighissima troppo troppo bella guardate c'è anche vedete scolpito un viso un profilo è stupenda questo è il tappo vedete allora questo è un profumo meraviglioso con note di adesso io qui non ve ne parlo proprio del profumo perché ve ne parlerò sicuramente nel prossimo video dedicato ai profumi del periodo perché lo sto utilizzando lo sto testando allora questo è un profumo con note buonissime di Fico e poi con note anche marine di caviale è un profumo veramente molto particolare sicuramente il sentir dire caviale fa drizzare i capelli ragazze è un profumo magnifico è una chicca questo profumo il 30ml l'ho pagato 43,90 euro non costa neanche poco ma è profumo di Thierry Mugler sono di una certa categoria e quindi anche il prezzo insomma è quello che è l'ho già usato mi piace moltissimo la persistenza lascia la scia è un profumo davvero molto intrigante lo definirei così misterioso intrigante sensuale con queste note marine saline che mi piace moltissimo quindi sono molto molto contenta di averlo trovato io l'ho trovato nelle profumerie Beauty Star lo avevo cercato da Sephora lo avevo cercato Limuoni Cardeni e così via molto probabilmente si riesce a trovare ancora online sul sito di Notino se non sbaglio sul sito Notino sicuramente riuscite a reperirlo dunque ragazze il video finisce qui questi sono tutti i miei acquisti post vacanze da trauma da rientro spero insomma che il video vi sia stato utile vi sia piaciuto ma che vi abbia tenuto principalmente che vi abbia tenuto un po' di compagnia fatemi sapere qual è stato il vostro acquisto del dopo vacanze magari se avete qualcosa da consigliarmi come sempre io vi mando tanti tanti baci e se vi va ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao